Mi chiamo Alberto Brignolo dell'azienda Agricola Matunei, ho parto la mia azienda nel 2015, ad oggi abbiamo una ventina di ettari di vigneti sparsi su tre comuni, Alfianonatta, Morisengo e Casorzi. Cerchiamo di fare del vino principalmente buono, rispettando quelle che sono le cose principali che fanno parte del mio lavoro, per cui il territorio, le persone e i clienti. Lavoriamo in biologico, in vigna, in cantina utilizziamo semplicemente la solforosa, cerchiamo di rendere il più possibile il vino uno strumento per capire anche il territorio in cui viene fatto e in cui si coltivano le uve per produrlo. Ho scelto di fare questo lavoro perché è sempre stato un po' un progetto che avevo già fin da piccola, mi piace, mi diverto e penso che potrei riuscire a farlo anche per tutto il resto della mia vita. Grazie. Grazie.